Cosa occorre per fare il bagnetto al lievito madre? Intanto parlo un attimo di cos'è il bagnetto. Il bagnetto praticamente quando il vostro lievito madre inizia a puzzare un po' troppo di acido bisogna appunto fare il bagnetto per purificarlo. Cosa occorre? Un litro di acqua calda e tre massimo quattro cucchiai di zucchero. Tagliamo il nostro lievito madre, versiamo lo zucchero nell'acqua e mettiamo il lievito madre a bagno per circa 20 massimo 30 minuti. Cosa avviene in questa mezz'oretta? Gli acidi del lievito madre si staccheranno per andare praticamente a mangiare lo zucchero che risiede in fondo alla nostra ciotola. In questo modo il nostro lievito si purifica quindi diventa pulito e non puzzerà più di questo odore forte, di questo insomma acido. Quello che occorre fare adesso è dopo appunto trascorsi 20-30 minuti noi dobbiamo soltanto prenderlo, strizzarlo e poi fare un normale rinfresco.